Ciao sono Rita e vi do il benvenuto nella mia cucina. Oggi voglio insegnarvi a realizzare una simpatica decorazione con il limone. È una creazione che vi può essere utile tutte quelle volte che dovete servire il limone in cucina, come ad esempio per accompagnare i piatti di pesce. Mettiamoci subito all'opera. Per il topo limone ci servirà un limone con la parte finale pronunciata, poi ci serviranno dei grani di pepe e dei fili di erba cipollina o rametti di prezzemolo. Per quanto riguarda l'attrezzatura useremo uno speluchino dritto, uno speluchino curvo, un coltello triangolare, un attrezzo da intaglio AU, eventualmente un tagliapasta tondo piccolo di circa 2 cm di diametro e uno stuzzicadenti. Prendete il limone, lavatelo e tagliate una fetta alla base. Appoggiatelo quindi sul piano considerando che la parte del musetto è dalla parte opposta al picciolo. La parte sporgente che vediamo sarà proprio il naso del nostro topo. Utilizzando l'attrezzo da intaglio con punta tonda, il nostro Ubaldo, forate il limone ad altezza occhi, poi scegliete due grani di pepe della stessa grandezza e inseriteli nei fori. Mi raccomando, scegliete i grani della stessa grandezza e dello stesso colore, non vorrete mica creare un topo limone strabico. Dallo scarto della base, usando il triangolo, ricaviamo la codina facendo una striscia a forma di S. Ora preparate le orecchie. Dallo scarto tagliato dalla base ricavate due dischetti uguali o, se vi viene più facile, usate il tagliapasta tondo. Sopra gli occhietti intagliate due fessure, asportando un filino di scorza e inserite i due dischetti appena tagliati. E qui scegliete voi che colore dare alle orecchie del vostro topo limone. Se le girate dal lato della buccia avrete tutto il topo giallo, altrimenti giratele dalla parte interna e avrete le orecchie bianche e il resto del corpo giallo. Secondo voi cosa manca adesso? Naturalmente la codina. Fate un foro nella parte posteriore con l'attrezzo da intaglio AU e inserite la codina. Il nostro topino è quasi pronto. Vedete com'è facile? Adesso creiamo i baffetti. Con lo stuzzicadenti fate dei fori a destra e a sinistra del musetto. Poi infilate i fili di erbacipollina, dei segmenti di erbacipollina oppure segmenti di gambo di prezzemolo per fare i baffetti. Il nostro topo limone è pronto per essere portato in tavola. Potete strizzarlo per ricavare il succo oppure tagliare il corpo a fettine. Allora vi piace il nostro topo limone? Noi vi aspettiamo qui con altre proposte visual food sul nostro canale youtube e sul nostro sito web. Mi raccomando seguiteci. Alla prossima!